...al mondo micronizzata con polvere di diamante e collagene che ha una tenuta 24 ore, ha l'azione idratante e soprattutto conturbante. No, non capisco più che... È vero, è anche conturbante. Adesso lo vediamo. È l'unico... ...di struttura le ciglia. La possibilità di provare oggi tutti i prodotti più venduti, quelli perfetti in una novità nel Beauty Sintonize, perché questo TSV si chiama Beauty Sintonize. Una bag di organza di seta con i cinque astucci in edizione oro specchiato per farvi un regalo o per farlo e la possibilità di provarlo fino al 25 di gennaio e cambiare. Ma anche un'altra novità assoluta che ci ha portato Neringa. 207244 è il codice... Praticamente mi sono trovata bene, sia come colorazione, io avendo una pelle olivastra tendente comunque alla tonalità... ...scura, altri mi fanno... o sono troppo chiari o hanno delle brutte cose. C'è l'ennesima testimonianza di 21.000 donne sulla qualità dei tuoi prodotti. Il Today Special Value è un ottimo modo, o per iniziare con i 10 euro di sconto o per fare scorta con un prezzo irripetibile. Ma create gli abbinamenti, guardate la meraviglia anche di questa confezione Paolo. Durante la settimana della moda avevo una camicia in sete, una gonna nera, quindi un look anche abbastanza... Le scarpe ce ne hai portate bellissime. Luta che ci ha portato Neringa. 207244 è il pece, ce ne hai portate bellissime. Bellissime.